Signoros e signores, with a 72% of preferences, 72% di preferenze, the winner is Paolo! Complimenti, congratulation! Bravo, bravo, bravo! Ora puoi dire qualcosa al tuo pubblico? Grazie, grazie a tutti, grazie, è stato veramente bellissimo, un'emozione grandissima, grazie, grazie a tutti, alla mia famiglia e a tutti i siciliani, ma grazie a tutti! Grazie a te, grazie a tutti i partecipanti, thank you very much to all of you, our coaches and all the finalists, tutti i partecipanti a The Voice a questa edizione di oggi, grazie, grazie mille, naturalmente alla band, ai nostri tecnici di bordo e naturalmente da parte nostra, ciao, ciao, ciao! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti!